Però io mi chiedo, come ha fatto? Cioè, come è riuscita a raggirare? Perché non è che se io credo che se oggi vado in America, no? No. Allora, my name is Edoardo, I have a trust fund. In Italy. Quando ci avrò 25 anni, I'm gonna have, tipo, 10 million euros. My father, sacco di soldi, mi dà. Quindi, can you please invest in me? Magari, because... I want a building, to name it, Edoardo Ferrario Foundation. Un tabella foundation. He just recharged my ricaricabile. Originale Netflix Storie inedite Guest time Brainstorming Release settimanale Benvenuti a, prossimamente, il primo podcast di Netflix Italia dedicato alle nuove uscite della piattaforma, che vi racconteremo io, Chiara Galeazzi, e lui, che è Filippo Ferrari. Ciao. Qui con noi, visto che è il primo podcast, abbiamo bisogno di aiuto, siamo dei novellini, abbiamo chiamato una grande personalità del podcast italiano, la metà di uno dei podcast di maggiore successo d'Italia, e cioè Edoardo Ferrario. Grazie, grazie Chiara, grazie Filippo. Grazie davvero. Grazie per essere venuto e per offrirci, diciamo, questa lezione gratuita di podcast. Perché noi abbiamo tanto entusiasmo, ma non è che poi... andiamo un attimo affinati. Sì. Volete veramente che mi comporti come un decano della podcasteria italiana, che inizia a dire quelle cose, per la prima volta sono al centro del tavolo. Ma come essere di là? E guarda, è un'emozione, si impara anche da questa parte della scrivania, si impara anche. Se volete faccio così tutta la volta. Ma no, in effetti Edo, tu sei stato già ospite di podcast, quindi conosci tutti e due i lati. Conosco entrambi i lati della barricata, esatto. E sei cresciuto molto, no? Immagino... Sono cresciuto molto. Ho dato molto ai podcast e i podcast hanno dato molto a me. Ok. Cominciamo a dire frasi, no? Esatto. Quelle da dire. Fai parte di una coppia con Luca Ravenna. Anche noi due siamo una coppia. Anche noi siamo una coppia. Hai un consiglio, come fossi un terapista di coppia, su come reggere? Dormite in stanze separate, tipo quelle cose. La cosa importante è parlarsi. Parlarsi. Quando c'è il dialogo nella coppia, c'è tutto. Non vi nascondete mai nulla, esatto. Non vi nascondete mai nulla. Se c'è un problema se ne parla. Perché alla fine tutto si può risolvere, no? Sì, sì, sì. Fatevi ogni tanto, un po' come me e Luca, qualche weekendino in Umbria insieme. Ok, in Umbria. A noi poi piace molto l'Umbria. Per mantenere un po' l'intimità della coppia. Questo è fondamentale, io ve lo consiglio. Bello e aiuta anche la qualità del podcast. Quindi chiederemo a Netflix se ha un soltacinale in Umbria. Appena finisce ci facciamo fare... Come si chiamano quei regali pacco? La Smartbox. Esatto, la Smartbox, esatto. Weekend romantico per podcasters. Nel Monferrato. Ma perché no? Bello. Bello, anche Piemonte. Piemonte, sì, è bello. Tu spingi sempre per il Monferrato. Io bello, perché io sono di lì. Apri, tu sei un uomo di Langa. Sono un uomo di... Ma no, Monferrato. Se dici uomo di Langa, quelli del Monferrato ti guardano tipo... Fate brutti. Con la classica aggressività piemontese. Noi siamo così aggricattivi. Allora, per cortesia... Se qua le Langa iniziano qua, fino a qua... Davvero, che mi divento una nocciola tonda. Se poco poco mi fai arrabbiare. Per cortesia. Però, allora, noi siamo qui non solo per parlare di noi, come in quanto podcaster, diciamo già di successo. Chiamoli podcaster. Noi abbiamo iniziato da due minuti, siamo già podcaster di successo. Chiamoli podcaster. Sì, ormai, ormai. Ormai sì. Basta dirlo, basta dirlo. Sì, ma siamo anche qua per parlare di Netflix, quindi di serie appena uscite. E anche in tema, diciamo col fatto che abbiamo iniziato un podcast, il tema che funziona di più in questo momento su Netflix sono le truffe. Va detto, raga. I truffatori proprio, anzi, nello specifico proprio. Non è che lo diciamo noi, ma lo dicono i dati, le classifiche di Netflix. No, non parliamo avanvera. Non parliamo avanvera. Abbiamo numeri. Abbiamo tutto scritto. Tra le serie più viste dell'ultima stagione, chiamiamola, c'è sicuramente il truffatore di Tinder in inglese. Sì, un documento. Ah, Tinder Swindlers. Bravissima. E lo sai che anch'io sbaglio sempre la pronuncia. Tinder Swindle. Swindle. Giusto. Swindler. Swindler. Non lo so. Tinder Swing. Swingers. Il truffatore di Twitter ti chiocciolava e tiro. E Inventing Ganna, che invece è una serie tv che racconta però una storia vera, perché entrambe questi prodotti, chiamoli prodotti, partono da due inchieste giornalistiche, quindi raccontano una storia vera, una a documentario e l'altra invece fiction, quindi recitata. E entrambe queste serie, raga, sono state super viste. Inventing Ganna nelle prime due settimane ha fatto più di 270 milioni di visualizzazioni che sono una roba, c'è tipo davanti a solo Squid Game. E diciamo che prendono due filoni, nel senso il truffatore di Tinder, ovviamente parliamo di Tinder, quindi parliamo di sentimenti, amore, truffe amorose, queste donne un po' accecate dall'amore, dai sentimenti e perché no anche da un po' di brillocchi. Diciamo la verità. Ma anche da una notte al Four Seasons. Ma perché no? Comunque diciamo, una collezione continentale incredibile. C'hanno dei danesi che solo per quelli vale la pena andare fino a Helsinki. C'è quello che fa i pancake, c'è quello col banchetto, che fa i pancake e fa anche le tre. E sorride mentre li fa. C'è il miele nella cassettina del miele, non in quei barattolini fetenti. Ci sono delle api vere che ti vengono al tavolo e lo gradirebbe di eucalipto o il millefiori e ti atterrano sul tavolo e ti fanno... Mi faccia pungere e poi decido. E tu scusa, non ti fai truffare da uno che ti porta in un posto? Raga, è semplice. Uno o una, eh. Uno o una, stessa cosa. Simon Leviv, lui ovviamente faceva innamorare tutte queste ragazze, infatti l'hanno scoperto perché una di loro ha denunciato poi e da lì un'inchiesta. Queste ragazze si innamoravano di lui, lui le portava, andiamo ad Amsterdam domani. Però poi come funzionava la cosa? Che a un certo punto lui chiedeva loro dei soldi, perché? Perché lui era un commerciante di pietre preziosi. Fingeva di essere commerciante di pietre preziosi e soprattutto fingeva di avere many enemies. Esatto, many enemies. Cioè tu non è che puoi pensare che se commerci pietre preziosi sia un lavoro tipo impiegatizio. No, hai nemici. Hai nemici, hai gente che ti vuole vivo. C'è una taglia su di te, want it dead or alive. E lui per tanto tempo è riuscito a farsi dare soldi. E loro innamorate ci hanno creduto e mandavano il bonifico. E adesso non voglio spoilerare, ma la parte migliore forse è quando ci sono queste donne che raccontano spaventate del loro innamorato in pericolo. E nel frattempo quest'altro che con i soldi presi dalla tipa di turno si fa le foto con la modella russa in Grecia. Esatto, lascia volare e vendere. Don't worry my love, I have my enemies, they are coming after me, they are coming after me. e invece poi era il cavo paradiso. La mia preferita in realtà è Eileen, credo si chiami, che è quella che alla fine quando lo sgama, lui chiede aiuto a lei perché non ha più soldi. Dice se l'unica rimasta è lei gli vende i vestiti su vintage. Come vendetta. E quello è il contrapasso. Lei è un mito. Sembra un mito greco. E lui che si vedeva spogliato tutte le sue camicie. Basta, è rimasto con dei pigiamoni. Le cinte di Whitton, esatto, lui adesso gira con delle tute di Adora da mesi. Lei oggi è testimonial di Vinted, tra l'altro. È diventata per questa ragione. Non lo metti? Non lo mette il tuo ex di Tinder? Mettilo su Vinted. E salutiamo gli amici. Mettilo su Tinder. Come abbiamo fatto uno sponsor. Ma perché no? Invece Inventing Anna è ancora meglio perché questa è la storia di una ragazzetta, di un po' più di 20 anni. Sveglia, molto sveglia. Molto sveglia, che arriva dalla Germania negli Stati Uniti e dice di essere una ereditiera tedesca che a 25 anni avrà accesso al trust fund del padre. Ma è fada. Però, allora. E quindi riesce a gabbare. Capiamo, esatto. Investitori, banche, gente della finanza, gente con i coltelli fra i denti. Però io mi chiedo, come ha fatto? Cioè, come è riuscita a raggirare? Perché non è che se io credo che se oggi vado in America, no? No. No, ma i nemici Edoardo, I have a trust fund. In Italy. Quando c'avrò 25 anni, I'm gonna have, tipo, 10 million euros. My father, un sacco di sordi mi dà. Quindi, can you please invest in me? Magari, because... I want a building, to name it, Edoardo Ferrario Foundation. Un punto bene, ma Foundation. Ok, he just recharged my ricaricabile. Vado a prendermi un caffè, ragazzi. Sì, è difficile, no? Non credo che funzioni nello stesso modo. Però lei è riuscita a convinto tutte queste persone, perché lei riusciva a recuperare un po' di soldi tra fondi di carte di credito, aprendo conti in altre banche, così. E quindi, lei anche racconta questa cosa, se tu ti vesti bene, poi la gente pensa che davvero c'hai soldi. E quindi lei faceva questa cosa qua. Peraltro, lei era quella che aveva comprato tutti quanti i vestiti del povero Swindle, da Eileen. Tutti vestiti da uomo. Esatto. Però sono quelli di successo. This is by luck. Perché lei fa questo accento, se nel caso non l'avete visto, recuperato e non guardato in italiano, vi prego, perché... O fate, cioè, guardate prima in italiano, poi però... E poi dovete guardare lei la sua pronuncia, perché è incredibile. Io credo che il punto forte suo sia stato essere veramente, cioè lei, una di quelle persone che vive in una realtà parallela e si autoconvince, perché comunque lei, raga, non è che solo andava a cena, lei stava per aprire una foundation, stava per affittare un palazzo, stava... Cioè, robe da pazzi. È un talento quella roba lì, poi non è legale, è tutta un'altra questione, però comunque... Ma la puoi mettere su LinkedIn, cioè una così comunque l'assumerei a un certo punto. Sì, sì, anch'io. Dai, se sei riuscito a fregare i fondi di investimento. Ti svegli un giorno e non hai neanche più un computer per aprire LinkedIn. Non hai capito, però tu dici brava, cioè ci sei riuscito, è come quando assumono gli hacker. This is my new notebook. No, ma veramente è il mio. No, this is mine. C'è un adesivo con scritto il mio nome. Don't touch me. In case of return to Eduardo. Return to Eduardo Ferrario. No, ma infatti lei è bravissima. Bravissima. Si apprezza il suo grande impegno, però anche lei poi ha pagato il suo debito con la giustizia, o mi sbaglio. Continuiamo a spoilerare puntate più avanti. Massimo, tanto la storia è conosciuta. Esatto, la storia la sappiamo, anche perché poi bisogna, dovete... Cioè, tutte le persone che hanno visto quella serie l'hanno poi followata su Instagram, almeno io. No, io no. Ecco. Ah, tu l'hai followata su Instagram? Sì, sì. Cosa fa? Com'è il suo profilo? Cosa pubblica? Allora, una cosa che ho visto dal suo profilo è che è incredibile che una tipa che usava quei filtri due anni fa abbia potuto fregare qualcuno. No, si parla tipo di robe orrende, tipo il gattino di Snapchat. Quello con le orecchiette, sì, quella roba con le... Le lentiezze, quella roba lì. Le freccette col cuore che ti arrivano. Molto basic come filteraggio. Sì, sì. Però, insomma... Cioè, tu dici... Comunque, in effetti, uno di Bank of America bastava, tipo, fammi aprire il profilo di questa qua. Sì, simpata, però c'ha le freccette col cuore che gli arrivano. Secondo me il padre non gli dà 20 milioni di dollari a 25 anni. Dovevano chiamare me. È la famosa prova. Sì, sì, sì. È la famosa prova dei filtri. Tra l'altro, bellissimo momento di incastro, meraviglioso, anche di contenuti Netflix. Lei, a un certo punto, vive insieme al creatore del Fyre Festival. Ah, quindi comunque aspetta. C'è un altro documentario stupendo. Due menti che si sono conosciute. Due grandi truffatori. No, però è bello quando nasce un'amicizia. Sì, sì. È basata proprio sul rapporto, no? Bello anche. Documenterò sul Fyre Festival. Una delle battute migliori del Fyre Festival era, a un certo punto, una delle organizzazioni dice, senti, se paghi 5 mila dollari per vedere i Blink 1 e 2 suonare, forse il problema è tuo. E un po', e un po', anche pur essendo io grande fan, mi sento di dire che forse aveva ragione. Tu non li avresti spesi 5 mila? 5 mila dollari per vederli suonare il Fyre Festival è roba di quel 2013. Sì, sì. Esaurito ogni afflato creativo dei Blink 182, forse è troppo per tutti. Forse è troppo per tutti. Cioè, almeno facciamo a metà della bolletta dell'elettricità, almeno quella. La puoi usare di sera l'asciugatrice che mi consuma? Allora, lo sono col mercato libero, va bene? Allora, c'ho la bifasica, quindi se per cortesia i capelli ti riasciugano la sera. Dai, grazie. I need to go out with my hair done. Questa era l'erispo, perché lei è mega aggressive quando le facevano notare le cose. Mega aggressive. Sì, active aggressive, non passive. No, 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 active. No, perché la difesa migliore è l'attacco. Esatto. Quindi appena le dicevano scusa, ma non va la carta di credito. You're so dramatic. Why are you talking to me like this? I have my money. My father is rich. La buttava sempre. European bank. Sempre sulla banca europea. Ah, che funziona? La BCE. Ah, certo. I'm calling the bank. Passa lei, passa metà serie a chiamare la bank. In Europa noi mandiamo dei papelli. Noi siamo molto più... Ancora sappiamo i bonifici che... Mi sa che c'era Draghi alla BCE in quel periodo, quindi era colpa di Draghi. No, Draghi doveva autorizzare tutte le operazioni. Tutte le transazioni. Pronto, bonifico a 500 euro, va bene, a posto. Prego. Esatto. Cioè, come fa questa gente ad andare a dormire la sera? Cioè, per me è un grande tema. Io che veramente se ho 3 euro di buffo, di debito, con il tabaccaio, io torno da casa, arrivato lì prima che chiuda alle sette e mezza, gli do i soldi, ma perché non ce la faccio, è incredibile come invece queste persone riescano a campare per magari cinque anni. No, loro anni. Anni, sì, sì. Ma per me è inconcepibile. Non resta che far conoscere Tinder's window con Anna, a questo punto. Qualcuno su TikTok ha fatto il video in cui i due si parlano cercando di avere una relazione e dicono, oh, I have my enemies behind me. E l'altra che dice, io sono drammatico. I don't care. 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 Il genere è un po' di fare volentieri una vacanza. Una vacanza breve. Un giorno. Sì, sì. Ospite. Ospite. Magari ospite di un amico loro. Cioè, non che io sono amica diretta. Sì, sì. Senza mai lasciare la tua carta di griffa garanziera. Vai, vai. C'è il famoso fantocci. Paghi lei. Paghi lei. Tra l'altro, questo qua è lo schema di Ponzi. Tu hai scoperto, grazie a questi documentari. Ho scoperto che questa roba si chiama schema di Ponzi. Sì, sì, lo schema di Ponzi. Che io non avevo idea di cosa fosse, ma che sta alla base di tutte le robe piramidali, diciamo. È una delle grandi invenzioni di noi italiani. Brava, esatto. Che noi non abbiamo mica fatto solo la pasta, la pizza, l'arte. Il mandolino. Il mandolino. Per cui sta andando l'economia mondiale. La prossima cosa è lo schema Ponzi, però, dei follower. Tu mi dai 50.000 follower, io ne cedo ad un altro 40.000, nel frattempo ne ho guadagnati 10.000 ed è così che poi si crea Inventing. Ma vedi che ce l'hai dell'inventiva? No, ma io, figurati, io sto adesso architettando delle mie truffe. Sì, adesso, insomma, ho dei progetti per il futuro. Poi magari ne parliamo alla fine del podcast. No, ma in realtà, a proposito di truffe, di truffatori, ce l'avremmo anche noi. Ce l'abbiamo anche noi un progetto, perché Netflix, noi dovremmo stare qui a parlare delle vostre serie, ma siamo qua con un altro obiettivo, che è quello di proporre una serie noi a voi. Cioè, voi ci pagate pensando che noi parliamo di voi, invece è il contrario. E visto che si parla tanto di truffatori, e visto che abbiamo qui Edoardo, che tra l'altro è anche Talent Netflix, quindi, perché tu hai uno special su Netflix. Io ho uno special su Netflix, Tami Caldi, che vi invito a guardare. Quindi abbiamo qua te, che hai già i contatti, sei già, come dire, dei titoli di coda col tuo nome ci sono già su Netflix. Anche come rubrica. In linea diretta con Redusting. Anche come rubrica telefonica ci eri utile, esatto. Cioè, anche solo come contatti ci eri utile. Tu ci puoi tornare utile, appunto, per proporre questa serie. Ora, noi abbiamo ipotizzato tre truffe da cui scegliere per fare una serie italiana basata su delle truffe. Truffe o comunque crimini che hanno creato un po' di hype sui giornali, cose di questo genere. Perché comunque questi sono casi, appunto, di cui si è parlato tanto nei giornali, nei telegiornali. Nei giornali che leggiamo noi, soprattutto ai giornali radio. Non sono tutti i giornali, però… Quindi ora noi ti proponiamo tre casi. Sì. Ne discutiamo. Va bene. Decidiamo qual è il nostro preferito e ipotizziamo una serie da proporre a Netflix. Ok. Ci dividiamo poi tutti i guadagni, tutto, cioè risulti anche tu. Va bene, splittiamo insieme. Se vuoi un ruolo, te lo togliamo, lo puoi avere, puoi deciderlo tu, tra l'altro. Sì, va bene. Adesso facciamo un po' di brainstorming, come dicono quelli bravi, come diciamo noi a Milano. Ecco, anzi, per essere precisi. Perché le altre cose dicono, riunione, no? Esatto, come si dice a Roma brainstorming? Eh, si dice il caffè. Il pranzo. Esatto, il pranzo in prati. Una cascio e pepe che dura fino alle 17.30 e poi si torna a casa. Non è vero, falso. Falso, città estremamente produttiva, la mia. Esatto. Mi candido a sindaco nel 2026, tra l'altro. Questa cosa non ve l'ho ancora detta. E poi che poi costruirai. La grande truffa, sì, sì. Prima di costruire la tua foundation. Sì, I have a foundation. I have a foundation. A presto? Ah, sì. For young politicians. Esatto. Esatto, sì, la scuola politica Edoardo Ferrari. Dime una cosa. Chiedo 10.000 euro a testa, ragazzine della Bocconi, per venire a darli a me. E' incredibile. Io verrei anche bene. Allora, i tre casi che noi abbiamo scelto sono abbastanza recenti, chi più chi meno. Per restare in tema truffe amorose, Pamela Prati e Mark Calderino. One and only. Ah, vabbè, vi giocate un asso. Esatto. One and. La più famosa truffe amorose. Questa è un po' la torta sacker delle truffe amorose. Esatto. Quella che veramente è la più importante, piace a tutti. Quando la porti a Tau, sono tutti contenti quando la porti a una cena. Questa è la roba lì. Infatti, guarda, puoi spiegarla un attimo? Perché tu sei il massimo esperto italiano di questa vicenda. Hai un PhD. Lo dite voi, ma forse è vero. Tu hai un PhD, no? Io ho un PhD, sì. In Bocconi. In Caltagin Rosenism. Insegna Caltagin Rosenism. Praticamente succede che nell'inverno... All'unificità del gossip della langa. Scusa, mi noi del Monferrato. Studenti, studenti. Scusa, prendiamo appunti. Chiedo scusa, sì. Succede che nel novembre 2018, credo, ormai, Pamela Prati inizia un tour televisivo. Domenica Inn, verissimo. Altre trasmissioni pomeridiane della domenica e del sabato in cui annuncia che si sarebbe finalmente sposata. Oh, dopo tanti anni. Dopo tanti anni. Ho trovato l'amore a 60 anni. Sono mamma di Sebastian e Rebecca. Sono madre e mamma. Mamma e madre, le canzoni, la roba. Figli del compagno. Figli del compagno. Chi si chiama Marco Caltagirone. Persona che vive all'estero. Grande imprenditore. Che ha a che fare con la benzina. Petrolifero. Petrolifero. Olio, oleodotti. Oleodotti. Si è utilizzato anche la parola oleodotti. Quindi non imparentato con la famiglia, nota famiglia romana. Esplicitamente. No, perché la famiglia poi ha fatto sapere di non avere nessuno. Si è dissociata dalla famiglia. La famiglia Caltagirone da Mark Caltagirone. E praticamente, vabbè, si avvicina le date delle nozze e lei dopo essere andata in tv e aver rilasciato delle interviste e la gente diceva, sì, ma questo chi è? Perché non si vede mai. E poi, insomma, il resto lo sappiamo. Quindi vanno in tv, creano questa roba di mesi e mesi e mesi in cui in televisione ogni domenica, era domenica a live, non è la D'Urso, credo, si andavano a snocciolare degli indizi di una roba che palesemente non sarebbe successa. E poi alla fine si viene a scoprire, insomma, la versione di Pamela è che lei è stata raggirata e quindi è caduta in una truffa amorosa. Colpo di scena. Colpo di scena, questo tipo non è mai esistito e lei poi si è accusata, perché lei e le sue due manager erano un po' un team, lavoravano insieme, insomma, le loro due, Donna Pamela e Deliana, manager e Pamela, vittima, barra, complice. E chi lo sa, non sono io che lo so, però insomma, Pamela, vittima. Ed è, siamo noi per giudicare. Assolutamente. E Deliana Michelazzo, se non sbaglio, dice la famosa frase riferita alla sua situazione, mi sono sentita sposata. Mi sono sentita sposata. Perché anche lei aveva una relazione di tipo dieci anni con uno che però lei non ha mai visto di persona. L'ho visto una volta in moto da lontano, cheat. E si è sentita sposata. No, invece l'altra truffa, che invece è un po' più legata a uno degli ultimi grandi problemi che ha avuto il nostro mondo, cioè il covid, è la truffa del dentista Novavax che si presenta col braccio di silicone alla vaccinazione. Genio, punto. Bellissimo. Piemontese. Eh, ma noi siamo tutti così, eh? Ma che ce l'avete voi, infatti? Ma non siamo solo belli, eh? Siamo anche geni della truffa. No, poi siete così, siete gentili, però c'è anche il satanismo. Esatto. Siete, no? Così che uno vi vede tutti i cortesi, ma anche poi vi comprate su Amazon i bracci in silicone. È caro anche, perché comunque in Piemonte noi sappiamo risparmiare. Sai quanto costava quel braccio? Scusa, forse prima vuoi spiegare cosa ha fatto? No, allora, essenzialmente è la storia di un dentista che era stato già tipo allontanato dal suo studio, tolto dall'albo, eccetera, eccetera, perché Novavax. A un certo punto si trova costretto a dover fare almeno la prima dose di vaccino. Almeno una, almeno per fare la pulizia dei denti una mezza dose serve. Anche perché c'era probabilmente bisogno anche lui. E quindi dice, sai che c'è? Io vado a Biella, al centro dove fanno le vaccinazioni, e provo questa tecnica. Lui si è comprato su Amazon un braccio in silicone, lo ha applicato sotto la maglietta, va dall'infermiera con il suo bel braccetto, tenendoselo lì, pronto, truc, e fa per... Secondo me fa così. L'infermiera fa per inserire l'ago e si rende conto che la consistenza... Ma scusi un momento, questa non è carne umana. Ma lei è gelido. Ma lei è la consistenza delle labbra di Pamela Pratica. Com'è possibile questa cosa? E così l'infermiera dice... Guardi che si vede che ha un braccio finto. Ma cosa sta facendo? E lì subentra un genio. Perché lui chiede all'infermiera se può chiudere un occhio. Cioè a me questa cosa mi fa impazzire. E va bene, il braccio è di silicone. E va bene. Ma se questi vaccini funzionano tanto, se lei me lo inietta, mi arriverà qualcosa a un certo punto. Qualcosa supererà le barriere. Esatto. E a quanto pare c'è un messaggio su Twitter, in un giro Novax, così di uno che dice... Cioè manda il link di Amazon per acquistare busto e braccia di silicone, scrivendo, ma se io mi presento al centro vaccinale con questo addosso, secondo voi se ne accorgono? Ma vai! Ma quando vai! Ma sei scemo! Il dialetto piemontese avrà detto ha le medesime! Se no, l'altra truffa, che in realtà è una truffa con un furto, quindi c'è un reato vero e proprio, è la truffa, anzi scusa, il furto del Gratta e Vinci, vincente, nella tabaccheria di Napoli. So che tu sei particolarmente affezionato e infatti vorrei che tu lo raccontassi. Allora ragazzi, noi ci troviamo a Napoli, è un giorno qualunque, una bella signora napoletana pensionata si rende conto, va in un Gratta e Vinci, dice grazie per il Gratta e Vinci, gratta e scopre di aver vinto quanto? Un sacco di... 500 mila euro. Signori, sai quale braccia di silicone? Madonna! Un miliardo di lire del vecchio conio, tra l'altro. Lei dice, ma aspetti un momento, ma io qui credo proprio di aver vinto, lo dà il tabaccaio, il tabaccaio lo guarda e fa, no cara signora, lei non ha vinto questo biglietto, è mio! Eccoci! Salta sul ciao, mi piace pensare che è sul ciao. Sì, sì, che gli dà il via coi pedali. E fugge, e fugge, non si sa diretto, perché poi qui inizia tutta quanta la storia. Inizia la ricerca. È una storia incredibile questa qui, per una serie di ragioni poi, cioè per l'ingenuità di tutti, per l'ingenuità, forse della signora no, perché poverina, aveva fatto quello che credo vada fatto. Nel manuale, quando vinci il gratta e vinci, credo che sia la prima cosa, c'è scritta proprio anche dietro. Se ti leggi, sai quelle scrittine piccole. Quella no? La procedura è quella lì. Dalla tabaccaio. Allora, in realtà non credo, cioè so che su delle vincite sotto una certa cifra, lo dai a tabaccaio e te li danno subito. Ma per le cifre molto alte, tu dovresti andare, credo addirittura a Roma, al tesoro, al ministero delle lotterie. Ah, me ne spiagno, oggi purtroppo siamo chiusi, io so che ha vinto tu bioni 8, però purtroppo in questo momento, la collega Simonetta Morelli si trova in ferie. Torna fra quattro mesi, insomma, lo potete entra in cassetto, so gratte e vici tante volte, sennò che ti muovo di a me, poi ci penso io, che sarebbe quello che poi succede. La contattiamo noi, signora. Sì, sì, esatto, lo faremo sapere. Vedrà il bonifico. In realtà è vero, tu teoricamente, credo che sia vero, esatto, entro una certa soglia, tu puoi darle mani a tabaccaio, invece, 500 euro, mi ci dà 10 pacchetti di sigarette e il resto. E invece, sopra una certa soglia, effettivamente devi andare, credo sia al ministero, non so di che cosa sia, una divisione del ministero del tesoro. Alla Cisal. Alla Cisal, forse sì, anche probabilmente. Alla Cisal. Alla Cisal. Al ministero dei gratte e vince. Questa è una bella storia. Sì. Questa la trovo una bella storia. A me il dettaglio che piace molto, che è un grande classico di gente un po' in odore, di aver fatto delle cose strane, che lui lo trovano a Fiumicino, certo, pronto ad andare a Fuerteventura. Alle Canarie. Che grande. Che grande. Meta dove, vanno delle persone un po' ogni tanto, c'è molte persone turistiche che amano la natura di questo posto, altri che vanno un po' a... Altri che amano la natura diversa di questo posto. Sì, natura diversa di questo posto. Comunque lui, persona semplice, soldi, isole, cioè mare, isole, stupendo. Sai quelli che ti dicono, io quando parto, parto con soltanto lo spazzolino da denti nel taschino e il passaporto di mano. Il costume me lo metto già sotto. Lui è partito con un biglietto alla lotteria rubato da 500 mila euro. Quindi come fai a biasimare una persona del genere? Ma tra l'altro, non ho capito, cioè lui per comprare il biglietto ha fatto vedere che lui aveva il grattevinci vincito. Cioè con questo grattevinci, cosa pensava di fare? Questo non è chiaro. Ma perché scusami, ma a te risulta chiaro il fatto? Lui si è assalito su un motorino. A me piace pensare che lui si è fatto da Napoli, da Oriolo Sanità, è arrivato fino a Fiumicina. A Fiumicina che comunque un po' di tempo ci metti. Un pochino ci metti. Quanto ci vuole. Non lo so. In treno è tipo un'ora e mezza. In treno è tipo un'ora e mezza. Però voi state dimenticando un passaggio fondamentale, cioè che a un certo punto il nostro amico ha fatto una sosta a Latina. Ah, è vero, perché era nella banca di Latina. Dove ha depositato? Il biglietto. Lui va a Latina, nel cavo di Latina. Immagino che ci sia, sai tipo c'è il deposito di zio Paperone a Latina. Esatto. Con l'orecchio appoggiato. Sì, un deposito fortemente razionalista. Lui va lì e dice adesso io deposito qua 500 mila euro. Credo che forse li abbia anche depositati. Ah, proprio direttamente. È riuscito a depositarli. A quel punto è andato a Fiumicina dicendo tanto che mi frega ho depositato 500 mila euro in un cavo di massima sicurezza a Latina che è un po' la Wall Street italiana. Assolutamente. Io prendo e parto. È un canton ticino italiano. Il canton ticino italiano, senz'altro. La Lugano. Sì. La Lugano della Lugano-Pontina. Esatto. Infatti, sì, esatto. Bonificate le paludi svizzere. Anche lì c'è tutta una serie di paralleli fra Latina e la Svizzera. E si parte per Fuerteventura ma viene bloccato però. Viene bloccato. E a questo punto... Perché lui però non è che avesse sospettato neanche per un minuto che potesse essere ricerca. No, che lui la prendeva. In effetti è stato secondo me più un caso che sia stato bloccato che non che non sia stato... Cioè... Sì. Avrebbe potuto farcela, secondo me. Sì, sì, sì. Beh, no, ragazzi. Penso che se tu rubi 500.000 euro nella tua tabaccheria... Secondo me se sei veloce, parti. Beh, raga, dai. Tu nella tua tabaccheria rubi 500.000 euro. Peraltro, la scusa che poi usi per fuggire lui ha veramente detto... C'è il verbale. Vado a comprare le sigarette. Non ci posso credere. No, ma infatti, ragazzi... Lui da tabaccheria... È una mente superiore a questo uomo. Vado a comprare le sigarette ed è salito su un motorino. Mi piace anche pensare come in una città... Perché tu dici, ah, ti pare che l'ha denunciato. In una città come Napoli, nota per la pacatezza dei suoi abitanti, per la poca teatralità, per le reazioni contenute che voi in confronto al Monferrato siete i Rolling Stones. Siete il Carnevale di Rio, praticamente. Siete il Carnevale di Rio. Mi immagino la signora abbia avuto una risposta pacata. Non si è successo nulla. E ha precedente detto... Oh, signor, mi ha rubato 500.000 euro. E adesso... C'è caffomma adesso. Esatto. Praticamente, esatto, ha svegliato il rione. Penso si è stata allertata e le massime... Così, si è stato diramato un ordine di cattura per quest'uomo il quale poi è stato giustamente fermato a Fiumicino. Poi lui si è difeso cercando di, insomma, anche mentendo, dicendo che era stato incaricato da lei di comprare il biglietto e quindi che avrebbero dovuto dividere una roba del genere. Classico, no? Vai al tabaccaio, mi compra quel biglietto lì, per cortesia. Ma lo compri lei che lei ha le ditadone. Dividiamo le vincite, mi fido di lei. Facciamo così. Signora, non si preoccupi, lo gratto io. Qua tengo la numero uno. Questa è la moneta che tiene la fortuna. Ci do una mercata con la lingua. Questa ci abbiamo vinto 200 milioni di lire nell'82. Ma la tengo ancora qua nella mia teca, signora. Comunque la fine della storia è che la signora ha dovuto poi sparire dalla circolazione perché tutti sapevano che aveva vinto 500 mila. Quindi è diventata Carmen Sandiego e scappa sui tetti. È diventata una Rich House Wives of Naples. Bellissimo. Lei è diventata la sigla. Sono scesi tipo gli SWAT con una truppa a casa sua con le telecamere. Signora, lei non sa, ma è appena diventata una ricca casalinga di Napoli. Mangio solo in pasticceria. Bellissimo. Scusate, ma vogliamo parlare anche della linea difensiva dell'avvocato? Ecco sì, perché c'è anche la figura dell'avvocato, del tabaccaio. Io mi chiedo sempre come fai a difendere una persona del genere? Sì. Perché comunque è uno che manifesta così tanto l'intenzione di reato. È talmente palese che dici, ma come faccio io a difenderti? Hai fatto tutto tu? Lui ora ha fatto questa arringa, signori miei, ma non vi è mai capitato, mentre state lavorando, la voglia di salire su un motorino e tempestivamente recarvi a Latina. Signori, questa è una cosa che può capitare a chiunque. La pazza voglia di andare a Latina, signori, la bellezza di Latina, l'architettura razionalista, i kiwi dell'agropontino che sono i più buoni del mondo dopo quelli della Nuova Zelanda. Signori, ma quando mai? Ma quando mai? Una cosa che può capitare a tutti, signori, veramente. Città natale di Tiziano Ferro. Di Tiziano Ferro. Vedere anche i luoghi del grande cantante. La prima radio. Sì, sì, sì. C'è la casa natale di Tiziano Ferro. Con la mostra degli abiti. Come no? Con gli abiti utilizzati nel videoclip. Di abiti tradizionali. Questa canotta ce l'aveva in serenere. La casa museo. La casa museo. Mi sa che Laura Pausini ce l'ha? Ma veramente? Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che ci sia una roba del genere nel suo paese che è... A Solarolo. Solarolo, sì. Non sbaglio. Credo che ci sia una roba del genere. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Ecco. Scusate, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Comunque elementi ne abbiamo. Mi sa che quella che ha raccolto più entusiasmo è quella del tabaccaio. È proprio una bella storia italiana. E allora facciamoci sta serie. Io piccerei questa. Io piccerei questa. Posso anche dire che col fatto che siamo, tra l'altro, quartiere Mater Dei. Io non so se frequentate Napoli. Io non conosco purtroppo molto bene Napoli. Non mi sembra proprio il centro finanziario di Napoli, credo, il quartiere Mater Dei. No, il vomero, tipo. Non è vomero. Non credo lo sia. Non credo lo sia. Però, insomma, parliamo di Napoli. Sì. Noi abbiamo, nel Rooster di Netflix, ci sarebbe già un Sorrentino. Buttalo via. Non so. Potrebbe andare molto peggio. Esatto. Lui ti fa quel bellissimo establishing che c'è all'inizio di Estata alla Mano di Dio, quindi con gli elicotteri sul golfo. Esatto. Poi però, anziché seguire la macchina, seguono questo shower pedale. Con questo... Oh, ragazzi, sono andato all'altità. Ragazzi, qua, una mezza sono lì. E il motorino c'è anche... Estata alla Mano di Dio c'è anche la scena del motorino. Quindi tutto torna. Forse possiamo semplicemente rimontare Estata alla Mano di Dio per far finta che sia la stessa cosa. Ma tu fai un deepfake e ci metti la faccia. Due robe su green screen e li mettiamo sopra. Comunque il budget usiamolo poi per noi per divertirci. Ma quello lì va benissimo. E scusami, e Tony Servillo? Chi fa? Tony Servillo? Il tabaccaio. O l'avvocato? Forse l'avvocato. Tony Servillo ha assolutamente l'autorevolezza per fare l'avvocato del tabaccaio. Sì, assolutamente sì. Il tabaccaio... Non mi dico un pochino così. Non mi dico che mi dico di andare alla dica. Se tante volte mi è capitato di mangiare i kiwi, i kiwi sono come il sorriso di una bambina. Non sai mai che cosa ti può capitare quando le spezzi le vado. Tony, questa tabaccaio non ha senso. Però la riusci talmente tanto bene che è poetica. La teniamo, la teniamo questa. Quindi abbiamo già. Quindi regista, location, motorino. Abbiamo già il motorino. Abbiamo già l'avvocato. Ah, possiamo fare un branded content con qualche azienda. Aggiungo questi perché è papà pomono. Ciao, piaggio, ciao, piaggio. Sì, perché poi sai cosa? Piace anche all'estero. Eh sì. Se ha una vespa, può piacere all'estero. E secondo me comunque un cremonino te lo metto sotto. Esatto. Cioè, comunque, cante dalle andare in giro. Beh, la corona sonora in Inventing Gun c'è sempre tipo, I'm a rich bitch. Ah, è vero. Ci sono i pezzi un po' in pop. Tipo questi pezzi tipo, ah ma basta, ma bitch, ma basta, lasciarla. Mentre qua mettiamo tipo... Per l'agro, Pontino, con i chi, gli italiani che... E la signora chi la fa? La signora derubata. La signora, se scartiamo l'ipotesi, me. Sì. Scusami. Se questa la cantonia. Ti dirò. È più per il make-up. Eh, per quello, lo so. La signora napoletana, secondo me, guarda, o te la rifà una Luisa Ranieri, se vogliamo sempre rimanere nella... Una bellissima Luisa Ranieri, benissimo. Molto bella. Una Pamela Prati, a questo punto la potremmo infilare. È bellissima, notevole. Uniamo le storie. E uniamo un po' di... Ma perché no? Ma perché no? Per quanto, per la prima volta in un ruolo drammatico, Anna Maria Barbera l'ha sconsolata. Mamma mia! Bellissima! Per me sì, totale. Che secondo me è un po' che questa... Deve cambiare l'accento, perché lei ha un accento... Credo lei sia di, non ricordo se, proprio di Milano, Milano, oppure sia di Brescia. Ma credo sia delle zone di Filippo. Credo sempre sia, forse Bergamo, non mi ricordo molto bene. Comunque Anna Maria Barbera ci sta di brutto. Esatto, sì. Barbera. Questo mi ha rubato 500 mila euro, sono stata spiegata. In effetti è di Torino comunque, quindi è delle tue zone. Perché Barbera, ora che cognome è... E invece il tabaccaio napoletano Gaetano Scutellaro. Gaetano Scutellaro, anche qui ci stupisce il cognome. Scegliamo bene, che chi abbiamo nel rooster? O prendiamo tipo un bell'attore italiano, tipo Kim Rossi Stewart, quelle robe lì che sparigliamo un po'. Un Alessandro Borghi. Tipo che ci mettiamo una roba così, no? Certo, ma anche però se voglia, facciamo una scelta provocatoria, perché lui è giovinciale, anche un Ludovico Terzigni, secondo me, di scamba. Sì, lo sporchiamo un po'. Lo sporchiamo un po', e poi questa cosa, esatto, anche se è molto giovane, ha già... Cioè, lo facciamo passare come... Alla foga della giovinezza, alla foga dei ragazzi giovani. Di chi sa vivere, di chi si vede 500 mila, li prende e va. Sì, anche un po' gioventù bruciata, capito? Esatto, che va forte in motorino. Sì, sì, sì. Brava, esattamente. Che non ha paura di cadere, no? Lui va. Sì, sì, sì. Che prende il velox sulla pontina a 90 ore. E al velox si fa. Sì, c'è la foto così di lui. Sì, bello, bello. Edo, io ti propongo questo ruolo. Sì. Il direttore della banca di Latina. Che deve aprire la cassetta. Il cavò. Il cavò. Questo mi piace molto. Tu hai le chiavi del cavò. Claclan, 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 claclan. Un portacchiavi rotondo enorme. È tipo il miglio verde questa faccia. Cioè, mi immagino, capito? Claclan, 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 claclan. Nei corridoi si sente questo rumore enorme. Sì. E io sono lì che prendo, apro questo cavò a quattro mandate. Sì. E apro, esatto. Signori. Questo oppure il carabinieri, anzi il poliziotto che trova il tabaccaio a Fiumicino. A Fiumicino. Anche questo mi piace molto. Però occhio che lì scena d'azione, quindi devi essere pronto anche un attimo a combattere. Sì. Sì, anche lì un po' police brutality. Si fermi, sì. Sì, sì, sì. Fischiare. Beh, ma è anche un po' quella tradizione comunque di film romani sulla polizia, un po' Aqab. Sì. Diaz. Sai che mi piace questo ruolo qui? Ti piace? Quasi quasi lo faccio. Sì, sì, sì. Anche un po' Thomas Millian puoi farlo. Bello, anche sì. Se non lo fai tu questo. Ascute là. Do cazzo sta andando? Guarda che t'ho riconosciuto. Te sei il tabaccaro d'amater day. Posa un po' il biglietto. Che Roma per un'altra cosa, amater day. Ecco. Poi si mette un biglietto ad abacca. Anche io ovviamente poi sì. Molto bello. Puoi scegliere quindi. Puoi scegliere. È molto bello. Sai che mi sa che mi candido per il poliziotto? Per il poliziotto. Sì, mi piace molto. Quindi puoi telefonare a Manuel Arcuri in carabiniere e dirle che questa volta la cantonia. No, no, no. Mi dispiace. Questa volta qui no. Questa volta qui no. Forse la prossima volta sì. Molto bello. Poi dovrei fare quelle cose col trainer che divento grosso. Enorme. Enorme. Fai sei settimane di allenamento intensivo. Mangi solo riso pasmati e pollo. E pollo e basta. Pollo e riso pasmati. Esatto. Pollo, riso pasmati e pollo. In quantità da navi da crociera, capito? 800 tonnellate di riso pasmati. 500 grammi di pollo, 300 di riso pasmati, 2 di verdure. Perfetto. Faccio tutta quanto una cosa di... Bello. Poi metodo Stanislaschi, capito? Vado a Fiumicino, per due mesi mi fingo una valigia. Sentiti valigia, Edoardo. Sentiti valigia. Ora sei una valigia, stai diventando una valigia dell'aeroporto di Fiumicino. Hai perso il tuo padrone. Esatto, non sei più il tuo padrone. Ma sei piena di cose di valore. Esatto. Vengo smarrito 47 volte. Sei tu sul ruolo. Solo dopo essermi sentito valigia, posso a quel punto sorgere il ruolo di poliziotto. Quello lì del banco. Del controllo. Del controllo, esatto. Esatto, controllo random, puoi anche stocchicciare qualcuno. Però sempre comunque un po' Thomas Milian. Aspetti un po', signor, mi faccia sentire. Ammazza che bagaglio che c'ho qua sotto. Forza, questa la famo passare, signora. Peraltro poi, come l'avranno fermato? Perché comunque, a parte il passaporto, lui, che è una cosa che non va mai fatta, se non c'è una cosa che ho capito da airport security, lui partiva senza bagaglio. Senza bagaglio, ma certo. Che veramente è l'ABC del fuggitivo. Cioè non partire mai, portate sempre una cosa. Un trolley finto. Ma una buona. Qualsiasi cosa. Lui è partito senza bagaglio e quindi anche qui, però poi evidentemente gli hanno fatto la perquisa. Mi piace anche un po' pensare che l'abbiano messo tipo tonno sul nastro e l'abbiano passato. Il bagaglio sono io. Esatto. Oh my God, please. Ok, va bene, vado sul nastro bagaglio. Questo signore ha due bypass. Sul nastro bagaglio, esattamente. Ecco perché suona, questo signore ha due bypass fatti negli anni no. E l'abbiano scoperto così. E solo a quel punto, oh, ma questo si è mangiato il bieto da lotteria da 500 mila euro. Lui c'ha anche la bruciatura sul polpaccio della marmitta, tipo le cose lì, perché è arrivato troppo di fretta si è bruciato. E poi quando mi intervista, no, avevo capito immediatamente che era il signore scutellaro. L'ho capito dal modo in cui mi ha guardato, perché io purtroppo per criminare lo sento. Ho sentito come una pozza di pollo bruciato. Lo sai quando metti la mano sul fornello, no, che ti brucia il pelo. Sai quando c'è una sigaretta che c'è il fornello là sotto, lo fai così, e te brucia la superficie e senti la puzza di pollo bruciato. Io da quello ho capito, mi muovo quanto è stata contenta, mi muoio di questa cosa che ho fatto. Stupendo. Abbiamo tutti gli elementi, raga. Posso dire che quella puntata in cui vanno a Fiumicino e lo trovano parte proprio dal punto di vista della giornata del poliziotto. Quante puntate facciamo? Quattro miniserie? Quattro, sì. Una roba breve. Una dal punto di vista della signora, una dal punto di vista dell'avvocato, del poliziotto. Facciamo così, raccontando la storia di questa giornata. La stessa giornata, ma con quattro punti di vista. Secondo me è una cosa molto intelligente. Bello. Ricordiamoci poi che comunque è sempre diretta da Sorrentino. Sì, esatto. Quindi sarà una figata pazzessa. Esatto. E da servillo che comunque c'è tu, signor poliziotto, ma questa battuta me la puoi dire un po' più poetica. Quella cosa brutta che ha fatto quella signora, non la faccia più. Quelle donne sono dei regali della natura. Sono le cose più belle che si sarà buone. Secondo me ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Va bene. Vai. Picciata. Ora la picciamo per bene. Netflix. Abbiamo una serie da proporre. Una serie che si basa su un fatto di cronaca del 2021. Sì. Quindi molto recente, molto caldo. Il caso del tabaccaio napoletano che ruba il gratta e vinci da 500 mila euro. Ora sappiamo che nel vostro rooster di registi c'è Sorrentino, che ovviamente farà un prodotto che andrà molto bene anche all'estero. Certo. Quindi piattaforma internazionale. mi chiama un prodotto internazionale. Odore di premi internazionale. Odore di Emmy. Ma c'è odore di Emmy. C'è odore di Emmy. Ma Sorrentino poi me la conosce pure Latina per l'amico di famiglia. Ricordiamo che gioca in casa. E c'è, conosce Napoli, conosce Latina. La storia è la storia di un tabaccaio che noi vorremmo interpretato da Ludovico Tersigni. Ce l'abbiamo anche lui lì, quindi lo chiamiamo facile. riceve una signora nella sua tabaccheria che gli porta il grattavinci vincente senza sapere che cosa deve fare con questo grattavinci. E la signora è interpretata da Anna Maria Barbera. Se per cortesimo lo può grattare lei da volta, cara signor tabaccaio. Che riesce a fare sia drammatico che comico. Che comico. Perché lei ha due sfumature. Lei ha due sfumature, così. È un vulcano, Anna Maria. È un vulcano, è perfetta. Il tabaccaio prende questo biglietto, dice di andare a comprare le sigarette. Questa cosa mi fa molto ridere. Prende il grattavinci e scappa. Scappa in maniera rocambolesca, arriva a Latina dove deposita questo grattavinci prezioso nella bella Latina. Poi va a Fiumicino, cerca di scappare, ma un poliziotto integerrimo interpretato da Edoardo Ferrario, qua presente, che è anche uno degli autori comunque, sia chiaro. Ti arriva della Siaia. Abbiamo detto 33, 33, 33. Sicuramente, comunque ti arriva. Che lo ferma con la sua forza. E con il suo braccio di gomma. Perché comunque... Sì, che io comunque... C'è una gomma, ma morbida. Morbida. E lo prendo a schiaffi con questo braccio di gomma. Tipo Medusa del cantante mascherato. Esatto, sì. Si fermi, si fermi. E lo lancia, lo lancia. Lo prende con un tempo. Sì. Sì, e a quel punto parte il processo nei confronti di questo tabaccaio, dove ovviamente l'avvocato lo facciamo interpretare da Tony Servillo. Questo signore è al di sopra di ogni sospetto. Il finale di me, guardate veramente. La bellezza del lago Bondino. Si può raccontare soltanto se l'hai visto in prima persona. E se ne va via. Ma dove va? Ma perché? Ma non ha finito la deposizione. Il giudice, ma dobbiamo ancora finire questo processo. Dove va? Dove va? Mi capisci bene. Questa è una serie che può piacere a un pubblico ampio. Ampio, abbiamo per il Sludo Vico Terzigni apposta. Esatto. Questa è anche una serie per teen, dai. Esatto. Anche una serie teen, questa. Che insegna molto ai teen a non rubare grattevinci. Non rubare. Non rubare grattevinci. Non rubare grattevinci. Però ha anche appunto un respiro internazionale. Vediamo quella bella Italia che piace agli americani. Esattamente. Agli americani, come voi. Quindi comunque... Piace a tutti. Italia is great. No, ma parla a tutti questa. È una serie che parla a tutti. Trasversale, un caso di cronaca che è appassionato. Tanti talenti. Secondo me è già un successo. È perfetta. E posso dire che forse anche c'è un titolo. È stata la mano di Dio. È stata la mano di Dio. Secondo me si può bissare. Tranquillo. Sentiamo se ci dà la licenza. Ribadisco. Si può fare anche una versione semplice. Rimontiamo. È stata la mano di Dio. Come se fosse questo caso. Non devi neanche cambiare il cartellone. Devi solo cambiare le facce. Fai il fotomontaggio e ce l'hai. Sì, sì. Togli Maradona e metti Latina. E metti il tabaccaio. Esatto, basta. È facile, è facile. Ci sono due riprese. Quindi, Netflix. Voi adesso l'idea ce l'avete. Ci fate sapere a chi ci sta ascoltando e ci sta vedendo. Se settimana prossima non ci vedete è perché abbiamo fatto i soldi. di questa serie, sappiatelo. Cosa molto probabile. Cosa molto probabile. E siamo andati a Fuerteventura. E siamo andati a Fuerteventura. Edo, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie, grazie Chiara. E ti facciamo sapere se abbiamo venduto la serie. Perfetto, i dati miei bancari li avete. Ce li abbiamo, abbiamo tutto. Teniamoci in contatto. Cosa farai nelle prossime settimane e mesi? Nelle prossime settimane e mesi sono in tour con il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy. Si chiama Dittatore Sanitario. Lo porto nei teatri della nostra bella Italia. Anche a Latina? Lo porterò anche a Latina. Ah, però. Esatto, esatto. Che c'hai delle cose da depositare in base. Esatto, ora non voglio dire. Se possiamo arrivare mezz'ora prima devo passare alla BPN. Questa è la Calcutta, tra l'altro. Sì, sì, eccomi qua. Spettacolare, peraltro Latinenz. E questi sono i progetti per il futuro. Quindi, insomma, tutte le informazioni le trovate sul mio Instagram. Esatto. E ogni settimana sempre su Cashmere con Luca Ravenna. Sempre Cashmere Podcast con Luca Ravenna. Ogni, una nuova puntata ogni venerdì. Perfetto. E noi ci vediamo forse settimana prossima o forse no. Perché siamo anche noi a Fuerteventura con i soldi della serie. Mamma, non vedo l'ora. Grazie, ciao. Ciao.